Signore e signori e tutti voi all'ascolto, buongiorno! Oggi è il 6 di luglio del 2023, stiamo tornando a casa. Il mio piano, come l'anno scorso, era quello di fermarci a Cortina per fare quel giro a Cortina, ma come l'anno scorso Cortina è stipata, stipata di gente, non abbiamo trovato da parcheggiare, allora gliel'abbiamo data su. Io non so quando potremmo riuscire a fare quel giro a Cortina, forse mai. Quindi abbiamo ripiegato su Longarone. Ora, il piano B era di appunto fare Longarone e magari andare pure alla diga del Vaillant. Il problema è che, adesso non volevo andare troppo sotto l'acqua, la diga del Vaillant è là in mezzo alle nubi e piove perché non volevamo farci mancare un po' di pioggia. Comunque siamo qui da questa chiesa, che è la chiesa di Santa Maria, perché qui c'è una cache. Questa cache fa parte della serie Chiese Brutte, pensata per portarvi a vedere una serie di edifici religiosi di dubbio gusto estetico. Ma non è brutta in realtà. No, infatti è particolare. Adesso poi magari dopo ci allontaniamo anche se la facciamo vedere da lontano. A seguito del disastro del Vaillant, 1963, il paese di Longarone fu spazzato via da un'ondata di fango, terra e acqua causata da una frana staccatasi dal versante settentrionale del monte Toc. Nell'ottobre del 1966 fu dato in carico a Giovanni Michelucci di progettare la nuova chiesa del paese. Tuttavia la nomina di Michelucci trovò fermo opposizione del parroco e di parte della comunità. Le polemiche furono presto strumentalizzate anche a livello politico e solo nel 1975, con il consenso definitivo del Vescovo di Belluno e Feltre, fu possibile dare inizio ai lavori. La chiesa fu consacrata nell'ottobre del 1983. La chiesa è costituita da due anfiteatri sovrapposti, uno inferiore, coperto, dove si trova l'aula vera e propria, e uno superiore, scoperto, pensato come una sorta di piazza da cui è possibile osservare la diga del Vaillant. Esternamente l'edificio è in calcestruzzo armato a vista di colore bianco, la composizione è caratterizzata dalla presenza di una rampa che conduce verso la sommità della chiesa, in un ideale richiamo al motivo del carvario della via Crucis. La piazza superiore presenta un altare per poter cerebrare le messe anche all'esterno, ma fu pensata principalmente come luogo d'incontro. L'aula interna è in parte circondata da una tribuna rialzata e conserva i resti della chiesa più antica. La sala è accessibile da diversi punti, sia dal basso che dall'alto. L'organo canne della chiesa è stato costruito dalla ditta Mascioni di Cuvio nel 1991. Lo strumento a trasmissione meccanica ha due tastieri di 61 tasti e una pedaliera radicale concava di 31 note. Grazie a tutti. Grazie. È decisamente strana come chiesa, ma io non la definirei affatto brutta, anzi è molto molto bella per me, tutta tondeggiante, spiraleggiante. Poi sì, per non parlare del fatto che è piena di scalette, di passaggi, di cose, sembra un labirinto. C'è una mini porta, vagli vicino che così si capisce quando è piccola. Sembra progettata da una IA. Sì. No no, c'è altro che chiesa brutta, a me piace da impazzire. È stupenda. Sì. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Una nuvola tipo UFO Sparito Siamo nel comune di Vedelago perché ho sbagliato strada Nonostante sono 40 anni che vado su in montagna Tornare ho sbagliato strada stavamo andando non so dove quindi siamo usciti dall'autostrada E niente siamo passati per di qui in questo posto che c'è questo nido di mitragliatrici Ok c'è pure la scaletta lì che si va giù E ovviamente qui c'era una scatolina trovata Siamo tra Pelosina e Boschalto Altra cash trovata Della serie Se la vedi ti innamori provincia di Treviso Perché evidentemente la provincia di Treviso è così bella Questo praticamente Questo praticamente